Ha chiuso la mostra collettiva Uno, Nessuno e Centomila alla Biblioteca Oriani di Ravenna, all'interno del progetto Dante Plus 700, che ha visto partecipare più di 150 artisti che hanno elaborato con diverse tecniche la propria interpretazione del volto di Dante Alighieri. Come racconta l'ideatore dell'evento, Marco Miccoli, la mostra ha superato i 20.000 visitatori in soli due mesi. Non mancano le novità perché parte dell'esibizione si sposta alla chiesa di Santa Maria dell'Angelo di Faenza, all'interno della mostra Dante, visioni del contemporaneo. Un'altra parte invece sarà allestita in una temporary gallery nella piazzetta degli Ariani a Ravenna a partire dall'11 settembre. Si è conclusa Dante Plus, la mostra ai chiostri dell'Oriani che ha avuto tantissimo successo. Sì, quest'anno abbiamo avuto un grande successo, in neanche due mesi abbiamo fatto circa 25.000 visitatori. La realtà aumentata ha avuto proprio un boom perché pensate che l'opera di Darius Nardini ha avuto circa 50.000 visualizzazioni soltanto lei e in totale sommando tutte le opere in realtà aumentata hanno avuto circa 500.000 visualizzazioni alla mostra. Quanti sono gli artisti che hanno partecipato? Gli artisti di quest'anno erano 150, provengono da una selezione che ho fatto degli anni scorsi e una cinquantina di quelli che ho selezionato appunto quest'anno. Per quello che riguarda adesso ci sarà comunque una sorta di continuazione? Sì, la mostra verrà divisa in varie parti. Venerdì si inaugurerà la chiesa di Santa Maria dell'Angelo a Faenza con una selezione di circa 35 opere di Dante Plus più altri artisti. Una parte invece andrà in via Coradorizzi sotto al porticato dove ci sono i lampioni verranno messi degli standardi per Dante Effemera e l'altra parte invece più importante verrà messa di fronte agli ariani, il battessero degli ariani dove ci sarà proprio un bookshop dedicato a Dante Contemporaneo Pop e anche la mostra Dante Plus versione per gli ariani. Grazie a tutti.